Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6 di giovedì 19 maggio 2016, pronti per la nostra sfogliata delle prime pagine delle testate nazionali, poi quelle locali e poi anche gli argomenti che troveremo all'interno, chiaramente anche uno sguardo ad alcuni dei servizi preparati già ieri dalla nostra redazione sui principali fatti di cronaca e di sport. Iniziamo subito la nostra rassegna con la prima pagina del Corriere della Sera, quindi andiamo con le testate nazionali. Questa l'apertura, le condizioni UE, verifica a ottobre sui conti italiani. Renzi tagliamo l'IRPEF e chiudiamo Equitalia. Poi sotto la testata c'è lo sport europei a Londra, nuoto, oro e argento agli amici Greg e detti il fenomeno minacce e violenze aggrediti 650 arbitri, ma non lasciamo. Poi la foto notizia investite nella mia terra, il vertice Enco Sazana Diamini Zuma, si parla chiaramente di Africa e di investire nel continente africano. E a proposito abbiamo qui l'editoriale di Franco Venturini, profughi e sicurezza, la doppia sfida africana. In basso l'agguato svegliato in auto dagli spari, la mafia non mi fermerà. L'agguato dunque al capo del parco dei Nebrodi, salvato dalla scorta. E poi in basso pannella sedato, i medici senza speranza, il leader radicale trasferito in una clinica adeguata alle condizioni. Il saluto del Papa. E poi ancora in basso l'addio all'inotoffolo, ironia alla Veneta con la scomparsa appunto dell'attore comico. E poi i film di Cannes quando i registi non si fanno capire. Ora la prima pagina della Repubblica che andiamo a vedere. L'apertura, la UE. Fate più tagli, Renzi pronti a dare l'addio a Equitalia. Flessibilità ok da Bruxelles, verifica in autunno. Il premier dal 2017 meno tasse per il ceto medio. E poi la fotonotizia a due anni dal sequestro del 276 studentesse Amina. Sfuggita a Boko Haram, riappare dal buio la ragazza rapita. E poi ancora in taglio medio, Nebrodi, la mafia torna a sparare. Il presidente del parco vado avanti. E per la politica lo leggiamo quanto conta Verdini per vincere a giugno l'ultima divisione del PD. E poi in basso la cronaca Bossetti, Killer Crudele, Ergastolo per Iara. Le richieste queste dei PM. Poi Boom di denunce quando il sexting diventa un ricatto. Ed ora andiamo a vedere la prima pagina del giornale. La cambiale di Renzi. Ecco l'ipotesi patrimoniale. L'effetto Jobs Act è già finito. L'Inps annuncia assunzioni in calo del 13%. L'Europa chiede una maxi stangata ma il premier sogna. Taglio dell'IRPEF nel 2017. Referendum. Il no unisce il centro-destra. Sabato in piazza. C'è poi il fondo di Alessandro Sallusti. Se il padrone della RAI spegne il virus porro. In taglio medio dalla Cassazione alla Grazia dell'Utri. Quattro mosse per liberarlo. E poi in somiglianza bestiale quell'orso più umano dell'uomo che ci fa sentire tutti animali. Ancora in basso Purghe 5 Stelle. Grillo si inventa un algoritmo per epurare i dissidenti. E poi ancora in basso se la Svizzera blinda il franco comprandosi pezzi di Apple. La prima pagina che andiamo a vedere ora è quella del fatto quotidiano. Il Dout Des come lo chiama il fatto quotidiano. Il governo gli spalma i debiti e Angelucci gli regala libero. Lotti, amico di Renzi e Verdini, rateizza 15 milioni all'editore deputato di Forza Italia. E poi sotto la testata il miracolo del Jobs Act. Meno 77% di contratti stabili in un anno. I dati sono anche peggiori del 2014 quando non c'erano incentivi. E poi cambio d'umore. Addio Charlie. Il flick parigino è tornato cattivo. Finita la solidarietà dopo le stragi jihadiste negli scontri per la riforma del lavoro. 360 agenti feriti. Poi ancora il mega gasdotto maratriatico dei Vincenti e quei favori del quartierino al TAP. E poi ancora in basso contestatemi il turpiloquio ma apprezzate la mia passione scrive il sindaco uscente di Napoli De Magistris. Pulizia nelle scuole, mafia capitale, la copp della banda Buzzi si riprende l'appalto. E poi ancora usanze, i bambini e le ballerine omaggio. Prime comunioni da far impallidire in Casa Monica nell'articolo di Selvaggia Lucarelli. Ora la prima pagina che andiamo a vedere è quella del messaggero. Messaggero chiaramente edizione nazionale. Poi vedremo anche l'edizione locale. Lo faremo più tardi. E allora taglio IRPEF per il ceto medio. Questa è l'apertura del messaggero Renzi nella manovra. Nuove aliquote o sistema fiscale diverso. Equitalia via entro il 2018. Dopo l'ok la UE apre a una maggiore flessibilità per il 2017 ma verifica dei conti a novembre. Poi l'editoriale di Giulio Sapelli, l'orizzonte ristretto dei tecnocrati dell'Eurozona. Austerità e crescita. Vediamo anche sotto la testa anche in questo caso si parla dell'addio a Toffolo, attore simbolo di Venezia, maestro d'ironia. Giallo risolto, restituita dagli Stati Uniti e l'Italia, la lettera rubata di Colombo. A Roma Totti firma vicina per il contratto da dirigente. Non penso ai soldi. Poi la fotonotizia. La mafia torna a sparare in Sicilia. Agguato al presidente dei Nebrodi, il numero uno del parco salvato dall'auto blindata e dalla scorta. Il cambio di casacca per i parlamentari è diventato un affare. I vantaggi nell'abbandonare il partito a chi passa al misto fino a 22 mila euro. Poi ancora il diritto Iara, il PM per Bossetti, il carcere a vita e l'isolamento. E ora possiamo passare alle quattro edizioni del centro, partendo dalla prima pagina dell'edizione aquilana. Ecco l'apertura, bilancio salvataggio da 18 milioni. L'Aquila, il sindaco Cialente, è in attesa di una lettera di Renzi. Poi anche sul centro trova spazio la notizia su Marco Pannella, che si aggrava ricoverato in ospedale. La fotonotizia al centro. Sequestrato ex casello, diventato villetta privata con i soldi pubblici. Operazione della forestale nella frazione di Onna. Poi c'è questo articolo di Raffaele Bonanni. fare figli è la vera impresa. I richiami di cronaca. A Sulmona, l'avvertenza, Marelli divisi i sindacati sulle turnazioni. A Gioia dei Marsi, Bracconieri con un arsenale, quattro indagati. E poi sempre a Sulmona, maternità, nati tre bambini in appena 24 ore. Donna morta, un sospettato, il giallo di Borgo Rose e un giovane con problemi di droga. E poi c'è il Buongiorno Abruzzo, questa volta firmato da Lorenzo Colantonio. A Guardia Grele, il latino alle elementari. La prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto, arrestato per la calugna al barista. Chieti lo accusò di pretendere il pizzo, uscere sconterà, quasi quattro anni. E poi al centro, Vasto, scoperta in città la discarica dei rifiuti pericolosi, fusti misteriosi in un deposito. I richiami a Chieti. L'evento è salvo. Chieti non perde la sua settimana dedicata a Mozart. A Ortona, cade sulla strada, crolla un pioppo, la tragedia sfiorata appunto a Ortona. Ecco qui la foto con il pioppo che è caduto in strada. Le elezioni a Lanciano, in coppia al voto per avere più preferenze. Poi ancora la cronaca, operaia fa condannare la Sevel a Tessa, costretta a portare scarpe scomode, avrà 15 mila euro. Prima pagina di Teramo, corruzione, Tancredi prosciolto, il deputato non va a processo per la presunta tangente sui rifiuti. Poi questa notizia curiosa, centropagina, con tanto di foto, la parrocchia non paga, pignorato il grande organo a Canne, tutto questo all'immacolata di Alba Adriatica. La cronaca a Teramo perse un occhio, condannato l'aggressore, lite davanti a un bar. La mamma omicidia e il papà di Samira sconti la pena in Italia. E la prima volta Silvi è stata con le strisce blu in tre piazze e quindi in basso peculato con le slot tre anni, condannata imprenditrice, non versa all'erario 350 mila euro. Ed ora andiamo con la prima pagina dell'edizione di Pescara, dove in primo piano c'è lo sgombero del mercatino etnico. Ecco qui, infatti, l'apertura. Il mercatino etnico non esiste più. Pescara, via le bancarelle dei senegalesi, trasloco nel tunnel della stazione. E qui la foto, appunto, di alcuni dei commercianti rimasti senza la possibilità di operare nelle zone che erano di loro competenza, tra virgolette, all'interno dell'area di risulta. Novità in città, l'idrovolante pronto a partire dal mare. Sanzioni ai clienti, prostituzioni in quattro mesi, multe per 23 mila euro. Calcio a mercato, il Napoli offre 7 milioni per la padule. Poi in basso, mistero e pica, parla l'ex marito, donna scomparsa, berghella la verità, nella casa di mia madre. Entriamo ora all'interno del centro. Intanto con la pagina dell'Abruzzo, pagina 7. Siamo pronti all'arrivo dell'estate. Il crollo del mercato turistico nel Nord Africa offre una scienza alla nostra regione, malgrado bandiere blu e fiumi. Poi ci sono due prese di posizione, quella di Davide Ballone della Fiavet, più prenotazioni, ma i meriti non sono nostri. La costa terramana è stata svenduta ai costruttori. A sud non fate lo stesso errore. Questo dice appunto il presidente di Fiavet, la federazione italiana Associazioni Viaggi e Turismo. Da quest'altro lato c'è invece Silvio Maresca, manager di Blu Serena, una piccola offerta ricettiva negli stabilimenti balneari. Ai politici non chiedo di avere idee, ma di fare soltanto il loro lavoro normale. Quando si parla di turismo e si parla anche del ruolo della politica, uno degli argomenti più caldi è stato, ed è tuttora quello della direttiva Bolkestein e di questo si è parlato ieri a Pescara, proprio con la visita del ministro per gli affari regionali Costa, che abbiamo avvicinato. I balneatori hanno parlato con noi prima e hanno detto che noi chiediamo al governo di conoscere quali siano le loro intenzioni su questa proroga, su questa proroga delle concessioni in atto. La preoccupazione è quella della perdita di quelli che sono stati gli investimenti fatti sugli stabilimenti. La posizione del governo in questo momento è certa già? La posizione del governo punta a garantire e ad affermare alcuni principi, che sono principi significativi, importanti, fondamentali. Innanzitutto vogliamo mettere mano ad una disciplina complessiva di riordino che da molti anni manca. Il principio essenziale è quello di rispettare quella che è la professionalità, quella che è l'esperienza, quelle che sono le imprese, perché dietro ad ogni impresa ci sono delle scelte familiari, delle scelte imprenditoriali, dei percorsi, delle valorizzazioni che è giusto non disperdere. Chiaramente noi dovremo aspettare quella che aspetteremo e valuteremo, quelle che saranno le pronunce a livello europeo. Voi sapete che c'è una pronuncia da parte della Corte di Giustizia che è attesa. Oggi c'è un tavolo aperto con le regioni, c'è un tavolo aperto a livello interministeriale, perché poi questa materia non è una materia che si può riassumere nelle competenze di un singolo ministero. Ci sono vari ministeri, dallo sviluppo economico alle infrastrutture, ai beni culturali e ambientali, al MEF con il demanio. Io ho cercato di coordinare questa attività, però è chiaro che poi ci sono delle competenze specifiche. Un altro punto che chiedono i balneatori, si conosce la durata di questo periodo transitorio? Io non parlo di numeri, intervengo soprattutto sui principi, questi sono gli aspetti fondamentali. Andiamo avanti e andiamo a vedere la pagina dedicata al Pecora Day all'Aquila, dalla pecora cosmetici e biodilizia, ma la star è sempre il pecorino. I nuovi business della pastorizia nella giornata speciale di Coldiretti all'Aquila con 5 mila agricoltori. Boom nell'export del formaggio e il comune assume greggi, tosa erba in cambio di razioni d'erba. Poi al centro Rossi di Cospa, evento vietato a tanti, la replica era per i soci. Ancora avanti con le pagine di Pescara e provincia. Lo sgombero spazzato via all'alba, il mercatino dei senegalesi, 10 mezzi blindati e 150 agenti per smantellare il bazar. Ambulanti in lacrime, in basso le reazioni del mondo politico. Acerbo il PD applica la politica della Ruspa. I democratici con Alessandrini, Forza Italia, lo spostamento sotto il tunnel, una favola. E poi ancora, a pagina 13, Alessandrini. Tra un mese pronti gli spazi alla stazione. Il sindaco incontra la comunità senegalese e rassicura sul trasloco imminente. Gli ambulanti saremmo andati via da soli in un altro posto. Perché cacciarci ora? E a tal proposito, torniamo a quanto accaduto poco meno di 24 ore fa. e soprattutto concentriamoci su quelle che sono state le reazioni proprio degli ambulanti a questo sgombero. Tante le reazioni e le voci che si sono sovrapposte a seguito dell'ordinanza di sgombero del mercatino etnico di Pescara. La prima reazione arriva dal rappresentante dell'ufficio immigrazione CGL che dalle primissime ore del mattino ha presidiato il palazzo del comune in attesa di un confronto con il sindaco. Una cosa vergognosa. Non avremmo mai aspettato questo comportamento. E questo mercato sta là da 20 anni. Tutti i giunti comunali destra e sinistra sono passati. Purtroppo pensavamo come se una giunta amica che poteva fare questo sgombero. Comunque sia, vogliamo la soluzione. Sono più di 100 persone che hanno l'autorizzazione a fare quel commercio ambulante con le loro famiglie. Vogliamo vedere come possono vivere. Anche Sel fa sentire la sua voce. Dopo aver assistito tutta la notte all'operazione in corso, il pensiero ora vale attività necessarie a predisporre una nuova area dedicata al commercio ambulante. Noi denunciamo veramente, siamo abbastanza allibiti di quello che è accaduto questa notte. Per noi è una ferita molto forte che la Pescara della solidarietà e i ragazzi senegalesi assolutamente non si meritavano. E credo che loro abbiano dato una grandissima prova di civiltà. Durissima la replica di rifondazione comunista dove Maurizio Acerbo sbandiera manifesti che paragonano il sindaco PD Marco Alessandrini a leghista Matteo Salvini. L'amministrazione di Pescara fa quello che Salvini dice che si dovrebbe fare. Alessandrini si è comportato come nessun sindaco di Pescara ha fatto, di centrodestra o di centrosinistra. E' lui inadempiente perché non ha fatto quello che si era impegnato a fare, cioè allestire una sistemazione alternativa al mercatino dei senegalesi, regolarizzando la situazione come si era detto. Laddove ci sono dei reati che riguardano i senegalesi o italiani, le persone responsabili vengono arrestate se sono arrestate, multate se devono essere multate, le merci sequestrate se devono essere sequestrate. Infine il centrodestra che solo due giorni prima aveva convocato una conferenza per sollecitare l'esecuzione di un'ordinanza emessa l'agosto scorso. In questo paese tutti hanno gli stessi diritti se assumono i medesimi doveri, gli stessi impegni degli italiani. E' impensabile per quanto ci riguarda che un italiano venga sfrattato dal mercato perché non paga la COSAP o la TARI e a chi non è italiano si permette di occupare abusivamente il suolo pubblico senza licenza commerciale. Andiamo avanti, sempre a Pescara, la chiave del giallo pica è nella casa di mia madre. Il caso appunto della traduttrice scomparsa, come leggiamo, a parlare l'ex marito Berghella si va da fondo sul perché Silvana venne mandata via. E poi le parole dello stesso Berghella sul fratello Marcello, non ci parlo dal 92, lui e mia madre avevano fatto fronte comune con Silvana per continuare a farmi la guerra. E poi sulla madre Giovanna ha gestito gli ultimi momenti in cui è stata vista Silvana e quando la manda via sa dove sta andando e chiama Marcello. Queste dunque le parole su questo vero e proprio giallo. Avanti ancora, l'idrovolante supera il decollo tra gli applausi, doppio giro di prova nei cieli cittadini e ammaraggio perfetto per il mezzo che da metà giugno collegherà con 4-5 viaggi al giorno, Pescara a Spalato. Ecco alcune foto della giornata di ieri di questo primo decollo. Avanti ancora il progetto controverso, case sul lungomare sud, l'ultima parola al Consiglio. Emilia e Mamarella chiedono al comune un cambio di destinazione d'uso, niente uffici, due delle torri potrebbero ospitare 40 appartamenti vista mare. Ecco i big della pallannuoto per la piscina provinciale. A via Volta, Gobbi Daltrui e Vuccovic garantiranno la qualità dei servizi e la gestione dell'impianto affidata per 10 anni a WISP e a due società natatorie. Avanti ancora con le pagine di Montesilvano. Prostituzione, le multe non fermano gli affari. Sanzionate 66 persone dall'inizio dell'anno, contravvenzioni per 23 mila euro, ma il fenomeno dilaga. Lucciole anche sul lungo fiume è in pieno giorno. E poi in basso, vita oltre la vita nel videoclip di Diletti. Il cantatore Pescaresi parla del suo ultimo lavoro discografico sulle esperienze di pre-morte. E poi per la politica, Ruggero attacca Maragno da incarichi agli amici. Il consigliere di Abruzzo Civico punta il dito contro una delibera di giunta che affida all'ex avvocato ed ex assessore Leo Brocchi la difesa del comune in un giudizio contabile. Poi ancora accogliamo i profughi, ma non negli alberghi. Il Comitato Cittadino del Turismo riapre il confronto sui problemi dell'ospitalità. Contestato il rincaro dell'Atari ai titolari degli hotel che ospitano gli immigrati. Noi però effettuiamo ora il nostro break meteo, andando a dare il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Subito le ultime. Allora, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, Andrea, la nostra penisola sta per essere interessata dal passaggio di una perturbazione proveniente dalle isole britanniche che nelle prossime ore raggiungerà anche la nostra regione, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà a partire dal settore occidentale e dalle zone montuose nel corso della tarda mattinata e nel primo pomeriggio, con annuvolamenti consistenti associati a delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco, precipitazioni che poi tenderanno ad estendersi anche verso il settore orientale, in particolar modo in serata e in nottata, quando avremo le condizioni favorevoli a fenomeni diffusi, soprattutto stavolta sul settore centro-orientale della nostra regione. Poi l'instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di venerdì, per gran parte della giornata di venerdì, con della numolosità più compatta sul settore orientale della nostra regione, sulla fascia costiera, dove saranno ancora possibili delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco, con temperature in nuova generale diminuzione, tant'è che potrà tornare ancora una volta la neve sui nostri rilievi, intorno ai 1700-1900 metri, quindi anche questa è una cosa da segnalare, però poi dalla serata assisteremo un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, che poi si manifesterà soprattutto nel fine settimana, perché Andrea è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione sulla nostra penisola, che dovrebbe, almeno stando ai dati attuali, garantire un buon fine settimana, un fine settimana caratterizzato da un tempo decisamente migliore, con temperature in aumento, anche se probabilmente lunedì arriverà una nuova perturbazione atlantica, ma di questa situazione ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti, Andrea. E allora forse il weekend è salvo, per chi volesse andare al mare o in montagna, però Giovanni, prima di questo weekend c'è l'ultima di campionato per il tuo Pescara? C'è l'ultima partita, da vincere per consolidare il terzo posto, perché è quello l'obiettivo adesso del Pescara, perché ovviamente con il terzo posto si hanno dei vantaggi che, ripetisco ancora una volta, l'anno scorso hanno favorito il Bologna, pur non meritando la promozione in Serie A. Quindi bisogna cercare di vincere questa partita, anche se c'è l'incogna di questo tempo, gli ultimi aggiornamenti, se vogliamo essere più precisi, mostrano comunque ancora una certa variabilità, quindi potrebbero esserci dei residui fenomeni, però probabilmente poi nel corso della ferrata questi fenomeni tenderanno ad attenuarsi, insomma, ma il peggio sarà passato, la perturbazione insisterà soprattutto nella prima parte della giornata di venerdì. Andrea. Va bene Giovanni, grazie, ti auguro un buon giovedì. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma, proseguiamo sempre con il centro, vediamo la pagina di Francavilla, Vigili Urbani in 688 per la prova scritta, al Palasporti il concorso per 15 posti presente, poco più della metà dei candidati iscritti, e poi di Renzo, turismo in calo nei 5 anni della Giunta Luciani, è sempre campagna elettorale che impazza anche a Francavilla al mare. Avanti ancora con l'area vestina, l'area inquinata diventerà pubblica, esposto dal forum dell'acqua contro il passaggio dai privati al comune del sito industriale di Bussi Officine, qui in realtà non siamo a Penne, ma siamo in Val Pescara, appunto a Bussi, ecco qui a Penne, maresciallo ucciso, chiesto rinvio a giudizio, il PM vuole il processo per il 37enne accusato della morte di Gianmarino, udienza il 21 giugno. Pagina di Chieti, la verità è venuta a galla, uscere in carcere calugnò un barista, dovrà scontare in carcere 3 anni e 8 mesi, accusò ingiustamente un impenditore di Francavilla e due carabinieri di Chieti. E' avvasto, assediati dai rifiuti pericolosi, esposto in procura per la rimessa abbandonata, piena di fusti. Avanti ancora, a L'Aquila, giallo di Mariangela, c'è un sospettato, si tratta di un tossicodipendente in cura in una comunità di recupero, i dubbi sui vestiti asciutti e sull'acido muriatico. I familiari, appunto, non credono al suicidio. Procuratore Cauto, siamo animati dalle perplessità perché l'autopsia ha evidenziato alcuni elementi che meritano un approfondimento. E poi ancora, dopo la visita del Premier Renzi, bilancio attesi 18 milioni, il Comune senza soldi, promessa del Governo, in un decreto, e in basso, tre bebei in 24 ore nel reparto da chiudere. Il punto nascita dell'ospedale inverte la tendenza grazie alla recente tecnica del parto indolore. Pagina di Teramo, prima di andare in pubblicità, dopo la condanna all'ergastolo, Samira, il padre, vuole riportarla in Italia. Voglio provare a farle scontare la pena qui, ha confidato ad un amico, ma la strada sarà lunga e difficile. In basso, Rifiutopoli, Tancredi non va a processo, prosciolto a Roma per non aver commesso il fatto dopo sette anni, è un doppio trasferimento dell'inchiesta. Ci fermiamo qui con la prima parte di Mattino 6, ora la pubblicità e poi la seconda parte. Di nuovo, buongiorno e ben rientrati con Mattino 6. Proseguiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo attraverso le pagine del messaggero, in particolare il messaggero Abruzzo, mercatino etnico, fine dell'Odissea, Pescara, all'alba 200 uomini dei reparti antisommossa in azione nell'area di Risulta, qualche attimo di tensione, poi via al blitz, sgomberati i banchi abusivi dei senegalesi. Sotto la testata il test, Pescara ha sparato buona la prima per l'idrovolante, la sanità, flacco, il caso del manager che tutti a Chieti danno per spacciato, per lo sport, calcio di serie B, Pescara, fumata nera per la padula al Napoli, incontro interlocutorio per il bomber, il club di De Laurenti, interessato in prospettiva anche a Zampano e al baby Vitturini. L'udienza preliminare, rifiutopoli, Tancredi, prosciolto a Roma. E poi, in basso, la fotonotizia, muore dilagnato dall'elica della barca, tragedia per un pescatore giuliese a Porto Recanati. Palace giapponese, dubbi sul cemento, i tempi si allungano, l'Aquila non c'è pace per il tormentato appalto della nuova struttura di Centi Colella. Blitz della forestale, i bracconieri del Parco Nazionale. Poi, di spalla, vediamo 5.000 soci per il Pecora Day all'Aquila. Rinascere si può, col diretti, documenta il boom di Capi e Cialente a ruola le greggi e sul Pecora Day la nostra redazione dell'Aquila ha realizzato questo servizio. Tere e greggi di pecore saranno assunte dal comune dell'Aquila con il compito di tagliare i prati in cambio in una buona razione di erba primaverile sostituendo 12 espugliatori e macchinari con l'abbattimento di rumore ed emissioni e garantendo in più la concimazione naturale delle aree verdi. Lo prevede l'accordo siglato tra il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e il presidente nazionale di Coldiretti Roberto Moncalvo una firma avvenuta in occasione del Pecora Day in svolgimento nel capologo abruzzese nel centro universitario sportivo Centicolella. Migliaia di partecipanti nel convegno dentro il palazzetto e lo sport anche tutta la politica regionale in prima fila. La manifestazione cade a 15 anni esatti dall'approvazione della legge 228 del 2001 che ha evidenziato la Coldiretti e ha spinto la rinascita dell'agricoltura italiana e a 20 anni dalla prima colonazione animale con la nascita della pecora dolly. L'occasione è stata però soprattutto quella di ricordare a tutti che la pastorizia non è un passato nostalgico e oleografico ma è il futuro in particolare in regioni come l'Abruzzo che non hanno certo scarsità di pascoli di tradizioni e competenze nel settore. A dirlo sono i numeri dopo decenni tornano ad aumentare le pecore arrivato a un patrimonio di 7,2 milioni di capi quasi 200.000 in più rispetto a 5 anni fa. Si moltipolano poi le aziende e aumentano i giovani che tornano all'allevamento degli ovini e ancora il formaggio pecorino nel 2015 ha fatto registrare il record di esportazioni con un più 17% con punte del più 410% nel mercato cinese arrivando a una produzione annua di 60 milioni di chili dei quali circa la metà a denominazione di origine. Una ragione in più per dire no agli accordi per il libero scambio transatlantico è la libertà degli investimenti TTIP tra Europa e Stati Uniti. Il nostro paese è stato ribadito più volte e deve restare fedele a ciò che ha di buono e genuino. La riscossa della pecora vuole anche essere un messaggio positivo rispetto a un territorio che ha vissuto un dramma grande come quello del terremoto ma che oggi ha tutte le carte in regola per rinascere proprio anche legandosi profondamente alle tradizioni e all'agricoltura e alla manutenzione del territorio. La pecora negli ultimi cinque anni ha avuto più 200 mila animali giovani pastori che arrivano più 17% il pecorino all'estero nell'ultimo anno. Dobbiamo trasferire sugli allevatori il valore di questo successo e costruire intorno a questo mestiere fondamentale traiettorie di futuro e nuova occupazione in Abruzzo ma in tanta parte del nostro paese. proseguiamo la nostra rassegna ma prima diamo una notizia dell'ultima ora che riguarda insomma la cronaca di livello internazionale non locale ma è un fatto appena accaduto e quindi lo andiamo a vedere sulla Repubblica. Aereo Egypt Air scomparso dai radar 66 passeggeri era in volo da Parigi al Cairo precipitato in mare senza lanciare l'allarme tweet della compagnia l'Airbus A320 è sparito dopo 10 miglia percorse nello spazio aereo egiziano indagini in corso era a 11.280 metri chiaramente di questo fatto si parlerà diffusamente sui notiziari nazionali già sta accadendo in questo momento dunque un aereo Egypt Air che è scomparso dai radar e come leggiamo precipitato in mare senza lanciare l'allarme in base al tweet della compagnia riprendiamo ora la rassegna stampa con il messaggero Abruzzo andiamo all'interno tra il dire e il fare ecco il master plan che resta in sospeso tra i 77 progetti ci sono piani ancora incompleti e opere per le quali l'impegno del governo non sarà risolutivo ex manicomio e funicolare a Teramo Brucchi dura partire subito Cialente più raggiante da noi quasi tutto pronto e poi ancora di primo esulta per Filovia e Teleferica Febbo spariti i soldi per l'automotive e ora andiamo a vedere la pagina di Pescara Blitz all'alba il mercato non c'è più dalle 4 tutta l'area di risulta sigillata dai reparti antisommossa sgomberate le bancarelle dei senegalesi che assistono in disparte si chiude un braccio di ferro iniziato ad agosto gli ambulanti protestano in comune e rifiutano il trasferimento nei quartieri idrovolante al porto buona la prima da Pescara a Spalato con l'European Coastal Airlines è riuscita al meglio la prova di ammaraggio in Darsena Moretti soddisfatto operazione eseguita in sicurezza più collegamenti e offerte promozionali per la stagione una opportunità che si integra con il catamarano della Snav l'obiettivo voli per tutto l'anno e poi in basso barricate per Pescara Porto movimento 5 stelle contro le case sul mare opposizioni mobilitate sul richiesto cambio di destinazione d'uso resta da verificare se l'ultima parola spetta al Consiglio avanti ancora Bussi quell'albero che non porta doni lo hanno allestito a Natale gli ex lavoratori oggi disoccupati sperando nell'accordo di programma dopo 5 mesi è ancora lì sulla firma del patto per la bonifica e reindustrializzazione prevista per lunedì pesa l'esposto annunciato dal forum H20 perfettamente addobbato ma ormai secco è l'emblema della lunga attesa del paese fabbrica e poi il dolore di manoppello oggi l'ultimo saluto a Mirko l'autopsia conferma lesioni fatali per l'operaio investito dal TIR stava lavorando in un cantiere sull'A24 tra i caselli di Valle del Salto e Tagliacozzo avanti con la pagina aquilana porta bareti il civico 207 sarà ricostruito a Villa Gioia lo spostamento inquadrato nell'ambito del progetto unitario presentato ieri i singoli condomini potranno ancora accedere all'abitazione equivalente l'assessore Di Stefano abbiamo dovuto dar seguito a quanto stabilito dal vincolo della soprintendenza è stata necessaria una variante con un accordo di programma sottoscritto dalla provincia e poi in basso per la cronaca Caffaggi anche i figli nel mirino dalle intercettazioni emerge che era prevista un'altra finta rapina nella villetta del geometro del comune poi ancora sempre all'Aquila palasport giapponese dubbi sul calcestruzzo nuovi intoppi nei lavori odissea senza fine si allungano i tempi per il completamento il comune deve reperire almeno 4 milioni per evitare l'incompiuta in basso il premier e il sottosegretario De Vincenti emeriti del Gran Sasso Science Institute secca risposta alle critiche della senatrice Blundo nella Marsica extracomunitari allarme della Questura potenziato l'ufficio stranieri con nuovi locali inaugurati con una partecipata cerimonia sono molti gli irregolari tutte le forze di polizia presenti ieri al commissariato disponibili ad avviare un'azione comune la rinnovata la rinnovata struttura dovrebbe consentire di accelerare i tempi per il tesserino elettronico poi ancora le pagine di Chieti e Provincia lo strano caso del manager che tutti danno per spacciato si inseguono le voci della rimozione in arrivo per il direttore della ASD Flacco pazienti nei corridoi e malati oncologici le possibili cause di rottura con la regione e poi ancora allarme per il bilancio serve il commissario c'è un atto d'accusa Luigi Febbo rilancia la richiesta del PD mancano 18 giorni e nulla si muove macchina comunale al collasso e poi nella pagina di Lanciano Vasto Ortona violenza sulla moglie va processato il PM Vecchi ha chiesto il rinvio a giudizio per l'uomo 50enne lancianese che avrebbe anche maltrattato le figlie l'accusato arrestato il 27 gennaio sarà dal gruppo il 22 giugno la sua versione dei fatti solo accese discussioni di coppia e un trentenne va davanti al gruppo il 5 ottobre per botte e abusi sulla consorte davanti alla bimba a vasto infelicità e scarsa autostima la vita dura degli adolescenti dati ambivalenti dall'indagine conoscitiva del centro salute mentale della ASL sui ragazzi vastesi la maggior parte non manifesta segni di disagio ma il benessere è ai minimi dicono gli esperti le pagine di Teramo e provincia intanto la politica di Dalmazio non rientra Brucchi vuole solo fedelissimi al centro per Teramo Gela il tentativo del sindaco per ricucire la maggioranza disattesa la richiesta di cambio di passo resta alla finestra anche Fratelli d'Italia si complica la strada per uscire dalla crisi oggi il vertice di coalizione valuterà l'idea di una giunta a 7 e poi ancora tumori liste d'attesa sempre più lunghe andiamo sulla costa muore in mare diragnato dall'elica Dario Parere 70 anni stava pescando a largo con un amico quando si è tuffato per recuperare un attrezzo finito in acqua il compagno è riuscito a essarlo a bordo e a dare l'allarme ma quando sono rientrati in porto non c'era più nulla da fare la vittima originaria di Giulianova lascia una moglie e due figli sconvolti gli amici poi ancora a Roseto scuole frazioni sui social si fa campagna elettorale finiamo qui per quanto riguarda il messaggero ora andiamo a vedere la prima pagina e a sfogliare quelle interne del quotidiano della provincia di Teramo ovvero la città che apre così rifiutopoli assolto anche Tancredi il Gup di Roma finisce di fare a pezzetti l'inchiesta a Pescarese sugli intrecci tra Dizio e il centrodestra regionale e poi la fotonotizia sequestrati dal commando a Cesena due camionisti terramani coinvolti nell'assalto al furgone porta valori sotto la testata a Tortoreto arriva il commissario il sindaco ritira le dimissioni il consiglio la manda a casa a Teramo condannato il lanciatore di bicchieri ma la giustizia belga arrestato diventa un caso internazionale in basso il caso dei chioschi finisce in il caso dei chioschi nei parchi finisce in procura Giulianova sono troppo grandi e non rispettano le regole sui materiali per lo sport toto allenatore Teramo Calcio scartato il nome di Ravanelli per la panchina bianco-rossa a Silvi ciclabile tra strettoie e ponti inutili all'interno della città anche in questo caso trova spazio lo smantellamento del mercato etnico nelle aree di risulta a Pescara in basso altri guai per Antonio Di Matteo indagato per usura alla caripe secondo la procura di Pescara avrebbe richiesto interessi nettamente superiori al tasso consentito dalla legge avanti ancora due camionisti terramani sequestrati dal commando a Cesena travestiti da poliziotti li minacciano con i mitra e li costringono a bloccare l'autostrada con i tir lunedì attorno alle 18 una banda composta da almeno 12 criminali ha scatenato l'inferno tra i caselli di Rubicone e Cesena Sud gomme bucate il tir carico di carne di Tacchino bloccato con chiodi sull'asfalto da un potente SUV che lo precedeva finti i poliziotti il tir di Bellante costretto a fermarsi di traverso per bloccare le auto in arrivo e dare spazio ai rapinatori e qui vediamo due immagini anzi tre immagini di questi momenti sicuramente insomma drammatici tutto questo è accaduto sulla A14 tra i caselli di Rubicone e Cesena Sud condannato il ragazzo che lanciò il bicchiere tre anni e mezzo di pena al 29enne protagonista dell'aggressione della vigilia di Natale a Leni Caffè avanti ancora rifiutopoli scagionato Paolo Tancredi il Gup di Roma fa a pezzi un altro stralcio dell'inchiesta pescarese su Dizio e il centrodestra abruzzese arrestato per una pena già espiato l'avvocato di Nanna il belga di Corropoli diventerà un caso da corte di Strasburgo avanti ancora e siamo alla politica Gattiani tutti convocati dalmati per l'azzeramento si prepara il quarto tavolo politico di domani il sindaco potrebbe spiazzare tutti con una giunta made in il tavolo della firma il primo cittadino farà sottoscrivere alle forze politiche che lo sostengono un nuovo patto di governo per le pagine della provincia il meglio deve ancora venire Di Marco punta al bis Castellalto al voto investimenti e sociali il sindaco si dice fiducioso per la conquista del secondo mandato avanti ancora a Tortoreto il sindaco Ricchi ritira le dimissioni e il consiglio dimissiona subito l'ultimo atto dell'amministrazione è una figuraccia arriva il commissario prima il sindaco Ricchi ha ritirato le dimissioni poco prima della scadenza dei 20 giorni e subito dopo la maggior parte dei consiglieri comunali si è dimessa ponendo fine dunque alla consigliatura a Tortoreto e dunque arriverà il commissario a Giulianova il caso dei chioschi finisce in procura cittadino e Movimento 5 Stelle presentano un esposto sulle presunte irregolarità cemento e verde Parco Franchi e via Matteotti nelle aree verdi nati due chioschi fuori misura e non conformi alle regole andiamo avanti con le pagine dello sport che andiamo dunque a introdurre con il termo sempre sulla città Borsino degli allenatori chi sale e chi scende i nomi per la panchina del Teramo in ascesa Zauli e Colucci stabile Pea in calo le quotazioni di Remondina Ramanelli scartato il profilo dell'ex attaccante della Juventus non è mai stato seriamente preso in considerazione dopo l'incontro che risale a qualche giorno fa la decisione a breve la settimana che verrà potrebbe essere decisiva per la scelta del nuovo allenatore nome a sorpresa Leonardo Colucci piace perché sarebbe in grado di lavorare bene con i giovani e poi per la serie D il Pineto si candida per un posto in serie D il presidente Brocco dopo la vittoria di Fiumicino anche se qualcosa andasse male chiederemo il ripescaggio asse col pescare il campionato interregionale interregionale sarebbe un ottimo trampolino di lancio per i nostri giovani e in basso prima di lasciare la città c'è questa curiosità il campione José Altafini a Sant'Egidio l'italo brasiliano ospite dei fratelli di Stefano al malificio Gran Sasso e ora torniamo al centro e lo facciamo appunto con le pagine sulla serie B scatto del Napoli per prendere la padula offerti 7 milioni bonus compresi Sebastiani ne vuole due in più incontro a Roma tra il presidente De Laurentiis le parti sembrano più vicine ma ci sono altre pretendenti si è parlato anche di Vittorini Zampano Caprari Dezzi e Insigne Junior domani sera alle 20.30 l'Adriatico arriva in Latina Oddo rilancia Campagnaro dal primo minuto mentre al centrocampo non ci sarà Torreira al suo posto giocherà Bruno intanto comunicate le date dei playoff o meglio fatte le combinazioni con gli accoppiamenti la terza gioca la semifinale il 28 maggio sabato 28 maggio potrebbe essere la prima partita del Pescara se il Pescara effettivamente arriverà al terzo posto previsti oltre 10.000 spettatori arriva il via libera per i tifosi del Latina e poi in basso parla colui che è stato ritenuto il miglior terzino destro della serie B Zampano per la A non temiamo nessuno il 22enne Biancazzurro su di giri dopo il premio ricevuto a Rimini è proprio Zampano andiamo ad ascoltare sì mi erito anche grazie a Miss che ha creduto in me fino all'inizio dell'anno mi ha dato una mano come tutta la difesa poi essendo il mio ruolo mi dava giusti movimenti giuste posizioni del corpo quindi un gran merito anche suo l'anno scorso dicevano bravo nella spinta ma alcune alcune in fase difensiva penso di aver migliorato non del tutto perché ancora bisogna devo dimostrare ancora tanto però penso di aver migliorato qualcosina in fase difensiva quando ho deciso di essere tutto del pescare comunque ero molto contento sapevo della fiducia del mister che è fondamentale dell'ambiente tifosi anche come società sapevo che era una grande società e quindi non me l'aspettavo comunque che magari il Verona ritrocedesse in serie B e noi magari possiamo arrivare in serie A quindi è stata una scelta che sono stato molto contento penso che noi quest'anno stiamo facendo un gran campionato e speriamo di arrivare comunque terzi venerdì sera speriamo anche che ci sia un gran pubblico e che è fondamentale avere terzi penso che come ho sempre detto che dipende tutto da noi come dice anche il mister se noi giochiamo come sappiamo giocare penso che non ci sappia nessuno come ho detto anche se comunque ci sono squadre molto attrezzate come Spezia, Cesena ma anche il Bari ma tutte quante noi dobbiamo cercare sempre di allenarci bene e cercare di dare il massimo al sabato e cercare di lavorare in fondo siamo molto contenti tutti ma anche vedo rispettare lo scorso i tifosi sono molto compatti uniti e penso che lo scorso settimana c'è stato il record dei spettatori al derby contro il Lanciano e niente siamo fiduciosi abbiamo una grande voglia proprio di arrivare in Serie A di lottare su ogni pallone e di vincere ogni partita e andiamo ora sulla gazzetta dello sport perché trovano spazio le squadre abruzzesi e i loro protagonisti anche se per situazioni opposte perché guardate qui questa è pagina 10 si parla proprio di Gianluca Lapadula tutti vogliono le rovesciate di Braveheart il capocannoniere di B Stella del Pescara faceva il portiere nella Juve ha il soprannome dell'eroe scozzese e vale un Perù il Napoli ora è in pole position ma occhio alle insidie estere l'articolo o meglio gli articoli sono stati curati da Nicola Binda e qui troviamo anche l'identichetta di Gianluca Lapadula tutti i dati che si riferiscono a lui e anche quella che è la sua carriera nelle squadre appunto dove ha giocato in precedenza Del Piero un vero mito i guaini il più forte di tutti e poi Zazza io e Vard insieme beh scoppierebbe il pallone queste le parole del bomber biancazzurro e poi ancora si parla di Lanciano perché ieri c'è stata l'assemblea della Lega di Serie B un'assemblea molto animata sono state comunicate le date anche dei playoff o meglio sono state abbinate alle date gli accoppiamenti dei playoff ma c'è stato anche il caso Lanciano che ha tenuto banco e andiamo a vedere proprio questo aspetto lo stadio per Lampedusa poi scintille col Lanciano Abodi dall'idea presentata in Vaticano alla calda assemblea la Maio stoppa il rinvio playout e interviene la procura del CONI e qui vediamo anche il bot risposta ma meno secondo quanto riporta la gazzetta dice il presidente Abodi mi farò autorizzare dalla FGC a posticipare i playout non puoi devi ottenere il lascia passare dell'assemblea gli ha replicato puntuale la Maio ti sbagli e rientra nei miei poteri e ne è nato un botta e risposta al termine del quale Abodi ha dovuto congelare la questione dunque clima sempre teso perché appunto ci sarebbe l'intenzione di posticipare i playout in attesa dei verdetti della giustizia sportiva torniamo ora sul centro prima di ascoltare le parole di Primo Maragliulo ecco qui caos giustizia sportiva Lanciano ha cerchiato procura del CONI all'attacco dopo la nuova indagine della Federcalcio arriva il ricorso contro la sentenza d'appello la Virtus rischia di perdere due dei tre punti di penalizzazione appena restituiti Maragliulo a Livorno per vincere e in palio un anno di sacrifici l'ambiente non ci condizionerà sempre sul fronte Lanciano vediamo sul messaggero Maragliulo Virtus scacciamo la paura il tecnico fiducioso alla vigilia della sfida decisiva di Livorno ci giochiamo tutto ma la pressione sarà sui nostri avversari avremo contro 20.000 persone un ambiente infuocato ma noi abbiamo personalità e lo dimostreremo ascoltiamo le parole di Primo Maragliulo la squadra in salute si è allenata bene anche con un buon entusiasmo con la consapevolezza che ci andiamo a giocare una gara chiaramente importantissima e che ce la dobbiamo giocare col piglio giusto perché sappiamo a cosa andiamo incontro sappiamo cosa andiamo a affrontare i ragazzi sono sono sicuramente pronti mi aspetto un ambiente molto 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 infuocato però noi abbiamo abbiamo una squadra dove sicuramente intanto c'è qualche giocatore non tantissimi ma qualche giocatore esperto ce lo abbiamo ed è una partita dove non posso pensare che qualche mio giocatore si possa far condizionare dall'ambiente questa è una gara anzi proprio quel tipo di ambiente in certe situazioni può essere anche un grande vantaggio perché se uno se uno ha l'anima se uno ha il cuore quelle situazioni te lo fanno tirare fuori ancora con più vigore si non si può non si può far finta di niente su questo è fuori di dubbio però io il mio pensiero lo conoscete perché l'ho espresso anche in altre occasioni adesso proprio in questa settimana proprio perché è l'ultima e perché ci andiamo a giocare un'annata intera credo che sia giusto che tutto quello che c'è al di fuori se lo debba vedere chi di conseguenza nel senso che se c'è una situazione dove la società è tirata in ballo in questo momento non sono sicuro sto anche leggendo sono a contatto con i dirigenti loro stanno facendo di tutto perché la situazione passi nella maniera migliore io mi devo concentrare solo ed esclusivamente sul campo sui ragazzi e come ho detto prima cercare di arrivare a questa partita nella maniera migliore sempre sul messaggero la padula a Napoli l'accordo slitta Sebastiani ha incontrato De Laurentiis ma non basta l'offerta di 8 milioni con i partenopesi è parlato anche di un'opzione su Zampano e Vitturini basket di serie B per l'amatori può essere la notte del sorpasso i biancorossi sperano nel grande pubblico salvemini abbiamo due gare in casa per provare a chiudere la serie e poi per il calcio a 5 un'altra serata importante per una abruzzese l'Acqua e Sapone prova a fare l'impresa stasera ad Asti terza e decisiva gara di semifinale Bellarte abbiamo già dimostrato di essere all'altezza e poi un'altra notizia che andiamo a prendere sul quotidiano il centro le donne nel pallone il Chieti può fare la storia serve un punto per la A domenica Langerini ore 15.30 la gara decisiva contro la Roma mai nessuna abruzzese ha conquistato la promozione nella massima serie le teatrine hanno vinto 20 gare su 21 sugli spalti annunciati mille spettatori ci saranno anche gli ultra il tecnico di Camillo non voglio calcoli bisogna giocare per vincere e con questa notizia con questo titolo noi ci fermiamo e ci concediamo chiaramente mattino 6 torna domani mattina puntuale alle ore 7 con le due repliche successive vi ricordo anche i TG di oggi alle 14 19 e 23 e poi alle 21 l'appuntamento del giovedì con le due ruote cioè con Velò con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini e il Giro d'Italia che impazza in questi giorni grazie a Claudio Di Giacomo in regia e a voi che ci avete seguito buona giornata l'Iceano la versione di Giacomo l' Grazie a tutti.